Andiamo al prossimo che è sempre un piccolo messaggio che credo è una chiave che serve, a me serve sicuramente, ma anche a tanti fratelli che cercano di evangelizzare e si bloccano e non hanno spesso l'ispirazione, l'unzione di evangelizzare. Infatti l'hai chiamato la chiave dei cuori. La chiave dei cuori che credo aiuterà molti di noi nelle nostre evangelizzazioni e lo hai chiamato infatti il passepartout. Il passepartout sì, è la chiave dei cuori che veramente si chiama questo messaggio, ossia la chiave per aprire tutti i cuori. Per aprire i cuori, sì. Se vai a evangelizzare la gente fredda, predica Gesù e la gente non gli interessa, serve una chiave. Serve una chiave. E questo messaggio si chiama la chiave dei cuori, la chiave per aprire tutti i cuori. O a volte i fratelli scrivono, non so di cosa parlare quando parlo con una pecorella, non so cosa dire, che soggetto, cosa fare, come fare amicizia. Cosa migliore è non parlare, è far parlare Gesù. Eh sì. Avanti con il battezzati nello Spirito Santo e allora non avrai problemi su cosa dire, perché è Gesù che parlerà attraverso di te. Ameno. No, ma credo che qui avremo una idea, si può parlare di tante cose, ma qui oggi vi daremo una idea come potete fare. Allora, guarda, la chiave per raggiungere tutti i cuori, specialmente quando evangelizzi, non è la religione, ma è Gesù, il suo amore, la sua amicizia, la sua gentilezza. E con questi potrai portare ad altri il Vangelo. Cioè queste cose, l'amore, l'amicizia, la gentilezza e così via, sono dei veicoli per trasportare, spiritualmente parlando, Gesù. Guai a presentarsi religiosamente, il mondo in media, di solito, disprezza la religione. Se tu vai lì con un mascherato da religioso, praticamente non andare neanche. Questo è il motivo che i religiosi non evangelizzano, perché sanno che è un buco nell'acqua. Non vedi le religioni evangelizzano nelle strade, perché la gente gli ride dietro, li chiama cretini, stupidi, e questa è infatti la religione. Però perché Gesù aveva successo e le religioni invece sono un disastro dal principio alla fine? Uno dei più grandi errori che un missionario del Vangelo, come tutti siamo o dovremmo esserli, tranne i disobbedienti, il più grande errore di un missionario del Vangelo è di presentarsi in un posto, in un luogo, in una nazione ufficialmente cristiana, come l'Italia, ufficialmente cristiana, a chiacchiere. E ti presenti in quella nazione e cerchi di convertire gli altri con l'handicap di appartenere a una religione diversa di quella locale. Questo è un grande handicap. Va bene, è come andare con una sedia a rotella a competere alle Olimpiade. Non credo che vinci. Se tu vai a evangelizzare sulla sedia a rotella della religione, non arriverai mai nessun traguardo. Per questo è che i religiosi non evangelizzano. Ci sono ufficialmente miliardi di religiosi che non evangelizzano. Dove sono? Non esistono. C'è chi predica un sesso pervertito, c'è chi predica la politica, chi predica... Però le religioni non si vedono, sono quasi invisibili. Non hanno niente da dire. Possono solo parlare. Sono andati in chiesa, una chiesa pentecostale. Oh, che bella musica! E la gente non gli frega niente. C'hanno la musica loro che preferiscono. Sono andati in chiesa cattolica, tutte le cerimonie, l'incenso. Oh, quanto fumo negli occhi! E c'era l'acqua... Questa gente dice, ma te ne vuoi andare? Non mi interessa! Chi fa così non ha la chiave di tutti i cuori. Per esempio, cercando di evangelizzare gli italiani, che sono suppostamente cattolici, e ti presenti in Italia come un protestante o un evangelico. Cioè, un fiasco totale. Ti guardano, come dire, povera... Proprio è disgraziata, non è cattolico. Oppure vai a evangelizzare in Scandinavia, dove viene mia moglie, dove la religione è il luteranesimo, e ti presenti come cattolico. Oppure un geoviano, un mormone. Chi ci ha provato, sa degli ostacoli e delle difficoltà. Gesù si è presentato semplicemente come la verità. E lo facevano in un modo giusto, ispirante, in un modo amichevole. Non si vestiva come i religiosi, ma si vestiva in un modo che le prostitute e i pubblicani si sentivano a loro agio. Gesù, criticato perché era amico dei pubblicani. Cioè, Gesù si è presentato il più semplice possibile. Quindi dovete lasciare perdere il religionismo, che fa sempre scappare la gente, ed è per questo che il diavolo lo ha creato. Chi ha creato il religionismo? Il diavolo. Scusa, se Gesù è perseguitato da religiosi, l'ha creato la religione. Ma come Gesù dobbiamo andare solo nel nome di Gesù, tutt'al più del cristianesimo, che già è molto andare come cristiano. Gesù non andava neanche come cristiano. Gli apostoli neanche. Andavano in nome della verità, in nome dell'amore. E quando vuoi in nome della verità c'è molte cose da dire. Sì, che parli di politica, di finanze, di matrimonio. Se vuoi in nome della verità e dell'amore, uh, quanto c'è. Però oggi c'è, sembra che molti non riescono a evangelizzare senza dire, domenica mattina vieni nel nostro edificio. edificio. Insomma, andiamo nel nome della verità. Però attenzione, che se andate nel nome del cristianesimo, attenzione che anche lì ci sono tante imitazioni in giro. Gesù, Gesù è più sicuro ed è più, molto più difficile da imitare. Cristianesimo, qualunque diavoletto può imitarlo. Gesù no. Il suo amore no. Dimenticatevi la religione con la quale siete cresciuti. Credo che questo veramente funziona nell'evangelizzare perché ho visto io che quando mi trovavo davanti a una pecora e non sapevo cosa dire, come approcciarla, come fare amicizia, iniziavo a parlare che noi non siamo religiosi, non apparteniamo a quella chiesa, non ti stiamo invitando domenica alla chiesa perché Dio è al di sopra e ama tutti, non importa di quale religione e vedevo che diventavano interessati perché tante pecore vedono le cose sbagliate nelle chiese e sono d'accordo con te quando tu le presenti e poi parli di Gesù che è molto più bello di una religione e ascoltano. Quindi è una chiave che funziona. Ma se vai nel nome di una religione ti limiti e nessuno vuole cambiare religione, battesimo, nessuno vuole. Quindi Gesù, Gesù, Gesù funziona. E in un mondo che che si sbattezzano come si vuole andare in una religione. E no. Cioè i cattolici dicono come siamo furbi, dicono. Perché appena nascono noi li battezziamo e basta. Sono battezzati. E loro si sbattezzano. Non puoi battezzare bambini appena nati. Siete impazziti. Ma siete impazziti. Battezzate bambini appena nati. Ma li avete chiesto. Io mi ricordo prima di conoscere voi diversi gruppi cristiani mi hanno fermato per strada cercando di evangelizzarmi. Ma erano chiese, erano organizzazioni che... Religiosi. Religiosi. Che si presentavano come tali. E io mi ricordo che sempre ridevo di loro. Come tutti i miei amici I was making fun of them. Li prendevi in giro. Li prendevo in giro. E non ascoltavo niente del loro messaggio. Ma prendevo i volantini e li leggevo ogni volta e li tenevo in my wallet. Nel tuo portofoglio. Perché volevo conoscere Dio Gesù ma non volevo andare nella loro chiesa. E quando ho incontrato voi e mi avete parlato solo di Gesù nessuna chiesa nessun edificio nessuna religione quello mi ha attirato. Infatti tu per diversi mesi non ci credevi. Non ci credevo. Qui c'è qualche schiletto nell'armario. What's behind? E quanti mesi hai tenuto questi dubbi? Come sei mesi. Sei mesi aspettando che qualcuno ha preso l'armario e tutti gli scheletri che cascassero vuole. Sì, qualcuno mi dicesse cosa c'è dietro. Ma non c'è stato niente. Magari vogliono i tuoi soldi vogliono qualcosa altro da te. Sì, qualcosa devono prendere anche loro da me. Ma non ho mai preso niente. E ci ho messo sei mesi a capire che gli armadi erano pieni di Gesù. Sì, perché venivo da un mondo dove non ti fidi di nessuno ma neanche della tua ombra. Nessuno. E allora ci ho voluto tempo per cambiare quella mentalità. Nessuno fa niente per niente. No, no, no. Se qualcuno dice c'è sempre qualcosa o è denaro o è sesso o è potere o è un'organizzazione. Sì, quindi anche se sono stata evangelizzata da altri gruppi e chiese non ho mai ricevuto niente da loro come non ho voluto accettare il loro messaggio finché ho incontrato qualcuno che mi ha parlato solo e solo di Gesù. Infatti, io ho lavorato in diverse organizzazioni e la cosa che più mi dava fastidio è che dovevi predicare una certa cosa. alla fine della storia devi andare a finire questo qui o questo qua o quello là e io ho sempre nel mio cuore sempre desiderato e pregato di poter evangelizzare cioè non avere due facce cioè una faccia quando sei nelle strade a parlare un'altra faccia quando sei in un'organizzazione io odiavo questo. Sempre pregato Signore io voglio essere come Te cioè come tu come tu dici tu sei non è che dici una cosa per le strade come il testo di Geova sì loro credono in Gesù sì 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 e poi vai a scoprire che loro Gesù non è Dio Mormoni è lo stesso cioè c'è sempre uno scheletro nell'armadio per questo ci ho messo sei mesi a capire chi c'è dietro di noi niente Gesù perché perché finalmente sono giunto al punto che è detto basta organizzazione mi sono scocciato ameno organizzazione sono del diavolo la verità è Gesù cristianesimo non è un'organizzazione è uno spirito santo andare a evangelizzare attenzione a questo attenzione andare a evangelizzare parte di un'organizzazione e spero che noi chiese dello spirito non lo siamo infatti alcuni sono venuti qua fratelli meravigliosi li amiamo ancora siamo in contatto tutto però qualcuno è venuto qui è rimasto deluso come non avete un edificio no organizzazione non ce n'è frate Giuseppe è tutto qua si è un cretino come tutti gli altri frate Giuseppe è un fesso no non è vero però è vero che alcuni sono rimasti delusi sì sì perché volevano tutto organizzato tutto con programma ma non avevamo tutto questo non vogliamo essere organizzati non vogliamo organizzazioni non li vogliamo ci piace come faceva Gesù andare a Montiagliolivi e magari dormire sotto un albero il bagno questo ti arrangi il bagno te lo inventi il bagno non è che abitiamo senza bagno abbiamo anche un bagno quindi diciamo qualche cosa a favore ma ma noi vogliamo la vera organizzazione è è l'amore è la verità è l'amore amarsi io preferisco ma non sto esagerando preferisco abitare in un fienile dove c'è il fieno con dei fratelli che ci amiamo e siamo pronti a morire uno per l'altro la grande tribolazione magari ci sarà anche quello che non abitare in una chiesa con a volte ho dormito in una stanza di organizzazioni religiose che c'erano 50 stanze e 45 erano vuote e due o tre occupate lo scopo dell'organizzazione era strallare soldi va bene e finalmente ho imparato un po' da tutti questa organizzazione qui quella di là ho imparato di qui un po' di là la profezia ho imparato un po' da tutti poi è giunto un momento che lo Spirito Santo mi ha detto adesso hai il fondamento adesso tutto quello che non vedi nella Bibbia lo butti in qualche cesso che ogni religione c'è qualcosa di vero ogni orologio è anche scassato che non funziona le lancette dell'orologio almeno due volte al giorno indicano l'orario giusto tutti hanno qualcosa di buono Buddha i cattolici i protestanti i geoviani tutti hanno qualcosa di buono rifugite quelli che dicono tutto quello che dicono i cattolici è sbagliato firmato pastore pentecostale ma lui si sbaglia ha preso un abbaglio i cattolici viceversa quindi io ho imparato un po' di qua un po' di là grazie a Dio l'asilo di qua l'asilo infantile di qua manicomio mentale di là la chiesa per i ritardati mentali ho imparato un po' dappertutto poi un giorno Gesù mi ha detto il messaggio grigio di Dio sono un buono a nulla ma almeno voglio seguire solo Gesù e continuato a fare sbagli li sto facendo li farò ma saranno sbagli mentre cerco tento mi do da fare di seguire Gesù e basta guarda ho cercato in internet adesso a sinistra ho trovato una foto che rappresenta ma lo metti sulla radio questa foto la sto mettendo adesso subito ci ho trovato una foto che rappresenta bene il punto che sto cercando di fare cioè andare a evangelizzare nel nome dei pentecostali dei cattolici dei geoviani che poi sono tutti uguali non è che cambia molto ognuno c'ha la sua bugia quello c'ha il papa quello c'ha la madonna quell'altro c'ha il vangelo di prosperità il rapimento prima della tribolazione bugie che non hanno scrittura mormoni che loro quando qualcuno di loro diventa come Dio diventa Dio no come Dio Dio cioè ognuno c'ha la sua cretinata insomma ma Gesù non era pentecostale non è che la bugia pentecostale anche loro dicono se non parli in lingua non è lo Spirito Santo ma che bugia che bugia è questa come uno parla in lingua ma Gesù non ha parlato in lingua allora allora non è cristiano Giovanni Battista non ha parlato in lingua primo corinzi 12 parla dei doni dice tutti fanno miracoli risposta no tutti sono apostoli no e poi cosa dice tutti parlano in lingua no non tutti vedi i pentecostali cercando di essere perfetti nella carne hanno perso lo Spirito cioè io mi chiedo se loro hanno lo Spirito Santo sicuramente io ne ho conosciuto parecchie pentecostali certo che molti di loro ce l'hanno lo Spirito Santo e parlano in lingua però è più un modo di mettersi in mostra è un modo di fare e io parlo in lingua e cattolicino i cattolici parlano in lingua meglio di pentecostali ci sono dei gruppi carismatici e cattolici che parlano in lingua meglio di pentecostali perché è meglio perché non sono così superbi e presuntuosi come questi protestanti che solo loro hanno lo Spirito Santo i cattolici ce l'hanno meglio di te ce l'hanno va bene infatti vi sfido andare andate come missionari a chiedere ospitalità a dieci chiese protestanti e dieci chiese cattoliche quelle che vanno da protestanti moriranno di fame sono molto poche perché c'è sono un po' come i testimoni di Geo protestanti c'è il suo spirito di superiorità dottrinale mi ricordo che evangelizzavamo di qua e di là a volte capitava che all'ora di pranzo evangelizzavamo dei protestanti e diciamo eh ma cioè non è che ti invitano a mangiare ti chiedono le dottrine sì e se le dottrine non gli piacciono non ti invitano a mangiare sì è vero ho predicato in chiese è vero ci eravate anche voi in chiese predicavo cose come rapimento dopo la tribolazione che secondo me è scritturale e siccome non gli piaceva la predicazione non ci invitavano a mangiare e dovevamo andare in giro a cercare il ristorantino da spendere poco per mangiare dopo aver predicato in una chiesa ed era l'ora di pranzo cioè devo dire che i fratelli protestanti che Gesù li ama devono imparare un pochettino l'amore dei cattolici i cattolici avranno le madonne le madonnine le statuette avranno l'acqua santa insomma ognuno ha le sue idiosincrasie le sue bugie ognuno ha le sue però se io devo se io devo andare all'ospitalità che è trovata dai cattolici dai conventi dalle suore sì anche io mi ricordo suore che ci portavano quando andavamo lì di sere dice sai siamo siamo dei volontari siamo un gruppo di credenti volontari siamo qui sei sette otto nove di sera cerchiamo un luogo da dormire i soldi sono pochi perché siamo volontari cerchiamo di spalmiare se avesse qualcosa i conventi le suore i fratelli ci ricevevano diciamo posso dire sempre o quasi sempre Angelo sempre 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 protestanti no protestanti troppi di loro c'è il suo spirito dei testimoni di Geova sono superiori sono superiori la verità è tutta loro la conoscono solo loro va bene quindi noi siamo cattolici protestanti siamo cristiani è così che ci presentiamo mi ricordano in India eravamo in un posto sono andati a evangelizzare in un posto per un paio di settimane abbiamo affittato delle biciclette e andavamo in giro con le biciclette e i soldi erano sai il vangelo non si vende certi lo vendono libri non vendiamo niente i nostri soldi sono sempre misurati andiamo in India andiamo in questa chiesa cattolica ed era un seminario questa chiesa era un seminario e mi pare che ho menzionato questo in passato e abbiamo pregato dov'è che deve stare qui un paio di settimane nella zona in quel particolare città una settimana dovevamo stare e allora il signore mi ha messo nel cuore una desiderio di parlare con il direttore del seminario c'era una chiesa seminario c'era tutto grande organizzazione e lui gli ha detto guarda siamo un gruppo di volontari cristiani ci servrebbe da mangiare per una settimana e dice aspetta aspetta che chiamo hai chiamato l'altro più grande più in alto è arrivato questo monsignore dice cos'è che noi siamo volontari cristiani e siamo qui per la nostra opera chiediamo ospedalità per una settimana perché i soldi sono pochi devono risparmiare e lui gli ha detto aspettate un momento è andato è tornato e dice ci fa una domanda dice voi siete protestanti sai perché non siamo andati lì in nome della Madonna eccetera e dice no siamo cristiani e basta e no no voi siete protestanti non lo volete dire no veramente non lo siamo protestanti e non vogliamo esserlo vogliamo essere cristiani di Gesù mi ha dato un lungo un'occhiata anche c'era un altro fratello come indiano fratello indiano e mi fa d'accordo vi riceviamo sapeva benissimo che non eravamo cattolici classici e sospettava che diciamo bugie non dicevamo bugie non vogliamo essere protestanti Dio ci liberi va bene e neanche cattolici cattolici nel senso cattolici sì in un certo senso perché cattolico vuol dire cristiano universale quindi in quel senso siamo cattolici va bene infatti se tu leggi le biblie protestanti fino a cento anni fa così che le stampavano e adesso dice la bibbia protestante dice come la Dio dati epistole generale di Pietro e poi anche Giacomo epistole generale dice però una volta si diceva le biblie protestanti dicevano epistola cattolica di Pietro perché la parola cattolico vuol dire cristiano generale ci siamo universale Gesù ama tutti quindi fratelli cattolici e protestanti svegliamoci non guardiamo l'altra parte della barricata non ci dovrebbero essere barricate è il diavolo che crea le barricate settarie la setta dei cattolici la setta dei protestanti all'inferno con queste cose la religione è quella che ha fatto morire Gesù ok ogni religione fa un cerchio quelli che sono dentro e quelli che sono fuori dal cerchio va bene e Gesù è venuto a fare un cerchio che non è rotondo è un cerchio a forma di cuore e raccoglie e comprende tutti i piccoli cerchi e si chiama il corpo di Cristo mondiale universale quindi per contesia se vogliamo svegliarci e ricordiamoci che un fratello che non prega in lingue cari pentecostali non dovete dirgli che non ha lo spirito santo forse non lo avete voi perché non tutti fanno miracoli non tutti sono apostoli non tutti pregono in lingue l'hai messo questa foto si l'ho messa allora questa foto rappresenta è un po' come se tu vai a evangelizzare in una città va bene da religioso tu ti stai trascinando una bara perché la tua religione e la mia sono delle bare lo ha detto Gesù lo ha detto vediamo un po' se trovo la scrittura qua comunque è in Matteo 23 Matteo 23 non mi ricordo il riferimento però dice Gesù parlava con dei religiosi e gli diceva voi siete pieni di ossa di morti va bene la religione è una bara con ossa di morti dentro verso 27 ma cosa dice Matteo 23 27 guai a voi scribi e farisei ipocriti perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia Matteo 23 27 Matteo 23 27 lo abbiamo trovato grazie Angela quindi le religioni sono bare piene di ossa di morti adesso addirittura in certe chiese ci mettono i cadaveri completi dentro chiese cattoliche chiese protestanti ci sono delle chiese che tutto intorno tutto intorno sono croci cioè cimitero state lontani da queste cose non è il Vangelo ci sono cristiani in queste religioni altro che però non è cristianesimo come nella Bibbia va bene allora quando riaprite la radio vedete questo di questo qua c'è la foto di uno che sta trascinando una bara con una croce sopra in giro per la città questo trascinando non lo so io ho lavorato negli alberghi alberghi anche famosi lussuosissimi eccetera non ero il direttore per la vostra informazione nella scala sociale ero in basso ero in basso ero in basso uno che lavorava nell'albergo il ristorante in questi alberghi c'hanno una chiave che una chiave sai che gli alberghi sono diversi piani secondo terzo quarto quinto decimo ogni piano ci sono per esempio 50 stanze questi alberghi qua e c'hanno come fa l'addetta alla pulizia aprire 50 stanze con 50 chiavi e loro c'hanno una chiave che si chiama passe partout ah passe partout passa dappertutto è francese passe partout con questa chiave gli addetti alla pulizia possono aprire tutte le serrature di quel piano ah ogni porta ogni porta non possono portare c'è un alberghi con 500 stanze posso andare in giro con 500 500 chiavi credo che noi missionari del Vangelo abbiamo molto da imparare da questi alberghi perlomeno dalla loro chiave quindi assicuriamoci fratelli missionari del Vangelo tutti siete missionari del Vangelo che evangelizzate cioè se andiamo attorno nel nome della nostra chiesa o di quell'altra religione saremo grandemente handicappati come se andiamo su una sede a rotello uno che non sa parlare un sordo muto un sordo muto su una sedia a rotello è uguale quando vai nel nome della religione il diavolo ha fatto un ottimo lavoro a diffamare tutte le religioni compresa la mia la nostra la chiesa dello spirito stiamo pronti all'occasione di abbandonare tutto e andare solo nel nome di Gesù e credetemi avrete molto più successo andiamo per il primo corinzi 9 Angelo c'è un passaggio lì sì avremo molto più successo se andiamo solo nel nome di Gesù e basta predicare come Gesù come gli apostoli non c'erano religioni anzi le religioni le perseguitavano e quindi non trascinatevi il peso di una bara piena di ossa ameno cioè queste sono le ossa tutte le cose sciagurate che quella religione ha fatto in passato che è una religione buona speriamo di esserlo ha chiesto perdone a Gesù e ricomincia di nuovo ogni giorno speriamo di essere di questi una buona un buon movimento di Filadelfia non l'Odicea e allora c'era il primo corinzi 9 e mi dai un passaggio del 19-23 poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge benché io stesso non sia sottoposto alla legge ma per guadagnare quelli che sono sotto la legge con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge pur non essendo senza la legge di Dio ma essendo sotto la legge di Cristo ma per guadagnare quelli che sono senza legge con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni e faccio tutto per il Vangero al fine di esserne partecipe insieme ad altri primo corinzi 9 19-23 ecco questo qua religioni è tabù non si può leggere questa scrittura in certe chiese perché qui se qui dice mi sono fatto giudeo mi sono fatto sotto la legge di Mosè mi sono fatto senza la legge parlare la lingua dei pubblicani dei peccatori continuare continuiamo la lingua del cattolico la lingua del protestante la lingua del geoviano questo sta dicendo però questo nelle chiese non si può predicare ti cacciano fuori anzi non ti fanno predicare proprio ti parlo per esperienza in atti 17 vediamo come paolo evangelizzava a volte lo vogliamo leggere paolo trovava qualunque modo possibile per parlare la lingua della persona che o delle persone che lui voleva guidare a Gesù ma lo vogliamo imparare questo o vogliamo andare in giro tirando una bara piena di reliquie ossa di morti dottrina che non valgono niente statue contro statue edifici le panche di chiesa allora atti 17 22 23 per favore e paolo stando in piedi in mezzo all'areopago disse atenesi vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al dio sconosciuto al dio sconosciuto or bene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annunzio atti 17 22 22 e 23 il dio sconosciuto è quello della denominazione cioè paolo ha trovato una chiave qui sì lui va nell'areopago e ha detto venga non salvi dio che l'ha adorato senza conoscerlo cioè ti pare che paolo non conosceva il nome di dio sì che lo conosceva certo che conosceva il nome il nome è Yahweh Yahweh il nome di dio paolo non lo conosceva altro che però si presenta là e gli racconta la barzelletta che viene a predicare il dio sconosciuto è vero capito cioè praticamente qua dobbiamo svegliarci abbandonare le bare non chiedete alla gente che religione sei che bara quale bara appartieni sto scherzando il dio di paolo aveva il nome ma paolo si presenta a parlare la lingua di quelli che voleva raggiungere vediamo in atti capitolo 15 che paolo lotta atti 15 contro la circoncisione giusto o no? sì dice che non hai più bisogno di circonciderti in Cristo non hai bisogno però andiamo al capitolo seguente atti 16 dall'1 al 3 me lo legge attenzione svegliamoci giunse anche ad Erba e a Listra e là c'era un discepolo di nome Timoteo figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio paolo volle che egli partisse con lui perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi perché tutti sapevano che il padre di lui era greco atti 16 da 1 a 3 questa non è un'apparente contraddizione Paolo capitolo 15 è lì che lotta contro la circoncisione poi rincara la dose nell'epistola di Galati però atti 16 circoncide Timoteo adesso i satanisti diranno uh ipocrita uh contraddizione no non c'è nessuna contraddizione e allora perché lo ha fatto? lo ha fatto lo dice qui verso 3 a causa dei giudei che erano in quei luoghi capito? lo ha fatto perché i giudei lo controllavano ah e allora per farla franca per evitare che fossero lapidati lo ha circonciso ci siamo? sì e allora a volte fratelli dobbiamo circoncidere qualche Timoteo in che modo Angela parlare il protestantese l'evangelichese il pentacostalese il mormonese il cattolicese il papese il paciamamese sì il papa paciamama però per portarli a Cristo come dice primo corinzi per portarli a Cristo se tu li porti a Cristo va a parlare qualunque lingua vuoi tanto le religioni sono tutte uguali alle religioni tutti hanno un po' di bene un po' di male un po' di falsità un po' di vangelo sono tutti uguali ufficialmente hanno fatto uno studio sulle dottrine della Chiesa Cattolica il 75% 75% delle dottrine cattoliche non sono basate sulla Bibbia il Signore aveva mostrato a Paolo la profonda verità come dicevo questo passepartout una chiave che apre tutte le porte come scritto cosa ha scritto mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni cerchiamo di capire questo e cerchiamo di uscire dai cimiteri religiosi ed entrare nel vangelo dalla libertà della verità e così dobbiamo fare anche noi liberiamoci dalle varie religiose che taluni di noi ancora trascinano diamoci da fare anche in modi non tradizionali per vincere a Cristo viene la tribolazione Gesù mi ha dato un messaggio anche su quello e la tribolazione non possiamo andare dal fratello e dire io sono protestante tu cosa sei dobbiamo accettare tutti che accettano Gesù lavorare con chiunque che ama Gesù lascia perdere le varie religiosi cari fratelli delle religioni andiamo a vincere gli atei andiamo a vincere i satanisti gli agnostici gli increduli i falsi credenti a vincere i religiosi assicurandoci che il vangelo nella nostra mano sia un pass per tutto non una barra religiosa Angela pregare per la mia voce che non vorrei che andasse via perché vai e viene vai e viene questa voce di nuovo facciamo una pausa allora no no fammi andare avanti finché posso fratelli dobbiamo presentare il vangelo di salvezza liberazione guarigione come ha fatto Gesù e com'è che ha fatto cosa ha fatto Gesù Gesù non ha fatto la maniera religiosa perché altrimenti sarebbe stato solo un'altra religione morta ameno Gesù parlava andiamo a Matteo 9 guarda lui parlava la lingua dei peccatori cosa che faceva infuriare i religiosi sia di ieri che di oggi perché Gesù parlava la lingua dei peccatori appunto dico parla il geovese il protestantese il cattolicese lascia perdere questi che parlano del pulpito che solo noi la salvezza è solo qui da noi e gli altri tutti all'inferno cercano di annullare la croce di Gesù così dice Matteo 9 11 i farisei veduto ciò dicevano ai suoi discepoli perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori Matteo 9 11 ha risolto il problema crocifiggendolo ma noi andiamo dei perduti nella loro lingua non quella dei farisei dobbiamo scherzare con loro nella loro lingua ridere alle loro barzellette che siano buffi o no e almeno per quello che è possibile che non siano troppe sconce insomma ecco però attenzione non fermarsi le barzellette e si da diventare come loro perché lo scopo è mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni e faccio tutto per il Vangelo atti 9 22 e 23 sai c'è una storia che mi ricorda di questo c'è la storia di Amy Carmichael che è stata missionaria in India e ha scritto diversi libri uno dei libri che ha scritto hanno fatto sparire quel libro non esiste più perché anche oggi nel mondo di oggi i religiosi non possono accettare quando uno fa di tutto per raggiungere gli altri portarli alla salvezza e in questo libro lei raccontava i metodi che usava per salvare i bambini dai sacrifici che facevano in India ai loro idoli pagani cioè nei suoi tempi ancora sacrificavano bambini sulle altari dei dei pagani e allora lei ha raccontato in questo libro tutti i metodi che usavano per salvare quei bambini portarli al suo orfanotrofio dove li crescevano come cristiani sì anche lei scrive ancora ci sono delle sette segrete che sacrificano ancora lo fanno sì di segreto ma anche in occidente ci sono le sette sataniche che li fanno di nascosta lo sappiamo perché alcuni sono usciti e hanno raccontato sì comunque lei usava metodi che diciamo non erano così cristiani come Gesù che mangiava con i peccatori ortodossi sì e ha scritto un libro per raccontare questi eventi e io volevo leggere quel libro e non si trova da nessuna parte cioè le chiese l'hanno fatto sparire non si pubblica quel libro non esiste cos'è che faceva Carmichael salvava i bambini che erano sacrificati prima di sacrificarli a volte li rapiva e li portava al suo orfanotrofio cioè faceva cose fuori comune che un cristiano non farebbe ma le faceva per portarle a Cristo e quelli diventavano missionari i figuri religiosi si accettano queste cose no i religiosi dicono non puoi fare queste cose certo di no normalmente non li fai ma se devi salvare la vita di un bambino ma è logico ma è logico cioè le due spie che Dio ha tanto benedetto a Gerico e Giosuè capitolo 2 e sono andato a nascondisi dentro un bordello e questo non è molto non è molto cattolico protestante cristiano non fa questo e non cristiano no il cristiano cosa fa perde la guerra fa perdere la guerra Giosuè capito cioè però cosa ha fatto sono andati in questo bordello hanno evangelizzato la direttrice si chiamava Rahab e si era sposata anche sposata come che si chiamava il marito ho dimenticato il nome I don't know comunque cioè fare di tutto per portarli a Cristo diventare come loro ma senza peccato non sono sono andati al bordello ma non hanno peccato con quella prostituta ma è logico Gesù non è che peccava con i pubblicani con le prostitute no le guidava a se stesso ameno i religiosi lì per lapidare l'adulto è Giovanni capitolo 8 e Gesù invece la perdona e gli dicevano Mosè ha comandato di lapidarla se tu la perdoni rompi la legge e Gesù gli diede quella risposta che sono crollati tutti quello senza peccato scaglie la prima pietra ma era contro la legge scaglie la prima pietra sono andati via tutti cerchiamo di non sbagliarci insomma non dobbiamo cadere nella fossa insieme al mondo però è solo una strategia quella di andare a Gerico così è una strategia per per vincere la battaglia vincere la guerra quindi cerchiamo di non perdere di vista lo scopo lo scopo è Cristo il Vangelo la salvezza e il modo maestrale saggio con discernimento possiamo usare tutto però in un modo che glorifichi Dio possiamo andare ad Atene a dire veniamo ad annunziarvi il Dio sconosciuto ma che maniera di predicare questo scusa è la maniera che Paolo faceva come credi che ha fondato le chiese in ogni luogo dove andava ovunque andava Paolo ovunque poneva il suo calzare il suo piede calcava la terra lì sorgeva una chiesa io sono andato a Roma località Tre Fontanelle conoscete vi ho già raccontato la storia no? sono andato lì per vedere perché la storia cristiana la storia del cristianesimo ci racconta che quando decapitarono tagliarono la testa Paolo dopo che Boia abbassò la scura la sua testa cadde dal e rimbalzò tre volte cadde e rimbalzò tre volte così forte è stato il colpo della scura o della spada non so cosa ha usato e la storia dice che in quei tre posti dove la sua testa è rimbalzata sono sorte tre sorgenti e appunto la località Roma si chiama località Tre Fontanelle c'è una chiesa e sono andato dentro per vedere però hanno nascosto tutto le religioni hanno nascosto tutto hanno messo una grata e l'acqua non si vede più perché sai è troppo santa per essere guardata e così questi imbroglioni i soliti religiosi hanno nascosto la testimonianza e sopra questa grata gli hanno costruito naturalmente una chiesa santissima con i mattoni sacri il cemento sacro eccetera comunque voglio dire ovunque Paolo metteva il piede sorgeva una chiesa però non era gratis lo lapidavano lo perseguitavano lo battevano con le verghe una volta lo lasciarono per morto fatto naufragio due volte battuto con le verghe mi pare dato tre volte imprigionato da tutte le parti il Vangelo costa imbroglioni della supergrazia nel nome di Gesù Cristo ok chiudo qui andiamo avanti fratelli avanti con l'evangelizzazione avanti con Gesù liberatevi dalle bare liberarsi dalle ossa di morti il mondo ha bisogno non di bare religiose ma di Gesù avanti con Gesù Angela Dio ti benedica amèn il microfono Angela grazie grazie andiamo adesso al soggetto del rapimento torniamo alle scritture che certe chiese usano per dimostrare secondo loro che il rapimento è prima della tribolazione ma ascoltiamo prima il canto di Marcello Marocchi andiamo a costruire la città la città celestiale che la costruiamo non sul cemento ma sull'amore andiamo a costruire la città dove avanza il deserto un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città la fonderemo sulla roccia dura la roccia della verità più vera sarà una casa grande ma sicura e non crollerà strutture di giustizia inventeremo le leggi della vita in cui crediamo chi ha fame chi ha sete accoglieremo in fraternità andiamo a costruire la città dove avanza il deserto un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città l'amore metteremo per cemento l'amore che ci lega sarà tanto insieme reggeremo ad ogni vento in solidarietà faremo nuove strade grandi porte lo spazio per chi arriva e per chi parte lo spirito che in tutti soffia forte è la libertà andiamo a costruire la città dove avanza il deserto un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città per fare la città per fare la città di buona la città per fare e la città la città Grazie a tutti.